Si arresta nuovamente la crescita della curva dei contagi in campagna. Il rapporto positivi tamponi nelle ultime 24 ore scende al 9,65% rispetto al 12 e 21 di sabato. I positivi di ieri erano 619, 47 sintomatici su 6411 test. I deceduti 18, di cui 7 nelle ultime 48 ore, mentre i guariti, 791. Si allenta leggermente la pressione sulle terapie intensive, 98 i posti occupati, su una disponibilità di 656. Due focolai di Covid a Rocca Devandro, comune di 3.200 abitanti nel Casertano, dove sono 76 residenti positivi, la maggior parte asintomatici. L'ultimo cluster, con una quarantina di contagi, si è sviluppato in seguito ad una verglia funebre per un'anziana, svoltasi il 27 dicembre. Il focolaio si aggiunge a quello più circoscritto che ha colpito la residenza per gli anziani, situata nel paese dove sono emerse una trentina di positività. Nuovo balzo in avanti dei contagi invece a Torre del Greco, dove si torna a registrare un numero degli attuali positivi superiore a quota 300. Andata avanti anche nel weekend la fase 1 delle vaccinazioni per tutti gli operatori sanitari dell'ospedale del mare, Cardarelli e Cotugno, mentre da oggi ricominciano le vaccinazioni al Policlinico Federico secondo Evan Vitelli. Al Cardarelli in due giorni sono state vaccinate 180 persone. Per questa prima fase di vaccinazioni si dovrà arrivare a poco meno di 1.000, poi il totale del Cardarelli sarà di circa 4.000 persone. All'ospedale del mare, la Asla Napoli 1 prosegue la sua ampia campagna che porterà il totale dei vaccinati a 798. L'Asla Napoli 1 ha un obiettivo molto alto, circa 15.000 soggetti di tutto il personale, che a qualsiasi titolo lavorano nelle strutture sanitarie. Da oggi partiranno anche i vaccini al Fatebene Fratelli e a Betania.